Questa è una cintura rigida, continuo ad avere un bell'aspetto liscio senza grinze quando viene indossata grazie alla teletta rigida al suo interno. Attaccate la cintura al bordo superiore, iniziando dalla cerniera. Ho lasciato un prolungamento su questo lato e fissatela con gli spili tutti intorno al bordo superiore sulla linea di cucitura. Continuate per tutta la lunghezza, tutti intorno fino all'altro lato. Ora attaccate la cintura con una lunghezza standard del punto, un centimetro e mezzo dal bordo superiore, e cucite tutti intorno, togliendo gli spili mentre procedete. La cintura è attaccata e questo è il prolungamento su questo lato. Utilizzerò una cerniera rigida, potreste usare il retro di una cintura, e la posizionerò sopra i bordi non rifiniti nel margine di cucitura e vicino alla linea di cucitura. Fissate con gli spili insieme alla cintura, adiacente a quella linea di cucitura. Ho la cintura su questo lato, quindi devo cucire sul lato della cintura invece che sul lato della gonna. Continuate a fissare gli spili tutti intorno al bordo superiore della gonna. Una volta fatto, è il momento di cucirla, e cuccio vicino al bordo, sulla linea di spili, ed è proprio accanto alla linea di punti che è già attaccata la cintura. Cucite tutti intorno. Quando la teletta rigida è attaccata, avvolgete la cintura in alto e sopra di essa. Otterrete un bel bordo ordinato e marcato. Avvolgo il tessuto intorno ad essa e ho messo uno spillo lì per tenerlo fermo. E poi, al di sotto, ripiegherò il bordo non rifinito in questo modo. Questo è il prolungamento eseguito. E continuerò intorno il resto della cintura, stringendolo bene, usando il bordo della teletta per tirarlo contro. L'ho ripiegato in sotto e metto gli spilli nel solco. E racchiudo quella piega sull'altro lato. Se continuate intorno al resto della cintura, sarà pronto da cucire. Questa volta ho montato il piedino standard per cerniere perché eseguo un misto di impuntura a riva e di cucitura nel solco. Quindi questa volta userò questo. Abbasso l'ago, molto vicino al bordo sul prolungamento della cintura, e cucirò lungo quel lato. Ruotatelo all'angolo. Cucirò i due strati assieme e poi, appena si arriva all'angolo, scivolerò sul tessuto della gonna. Quindi non cucirò più sulla cintura, ma appena vicino ad essa, nel solco. Cucite lì nel solco, tutto intorno alla cintura. Includendo la piega interna della cintura sull'interno mentre procedete. Questo risparmia la necessità di punti a mano all'interno. Continuate per tutta la lunghezza fino all'altro lato. Finite con una teletta rigida crespa, con dei punti. E se era dello stesso colore, non sarà per niente visibile.